Come in una tempesta a largo di Capo Horn con albatros, orche e balene in balia del mare. È un'esperienza da naufraghe in 4D, quella che si può vivere al Galata Museo del Mare a Genova. In una stanza buia, seguendo le istruzioni del nostromo, si indossano salvagente e ciubbotto e si salta sulla scialuffa per affrontare la tempesta. Lo stesso museo offre tra le altre cose anche la possibilità di visitare il sommergibile Nazario Saurabella d'Arc.